Pini e platani alti e frondosi proteggevano dal sole cocente i giardini dell'eroe Accademo. L'intero perimetro era delimitato da una siepe altissima. Rigagnoli provenienti dal fiume eridano serpeggiavano tra le uole, abbeverando fiori mai visti. Si respirava un'aria così pulita che stordiva. Era tutto talmente bello che lasciava estasiati. Seguimo le siepi e poco dopo ci troviamo dinanzi alla grande costruzione, quasi interamente ricoperta di edera verde e luminosa, nonostante la calda stagione. Sulla porta di legno chiaro un'enorme lastra di marmo incastonata nella parete portava incisa la scritta «Non entri chi non è geometra». Eudosso bussò con un fallo metallico posto sulla parte centrale della porta. Non dovemmo attendere molto. Un giovane schiavo completamente calvo e il volto pieno di efele di rosse salutò Eudosso e l'astenia ci fece entrare. Dietro di lui un molloso presa a ringhiare. Era una costruzione enorme, rettangolare. Un grande portico dava sul giardino in cui erano disseminate fontane, statue e ai uole. L'astenia mi spiegò che il lato più lungo, quello dall'altra parte dell'entrata, dava sulle due grosse aule di studio e su quella dei simposi, mentre nel lato corto di sinistra erano situate le stanze di alcuni allievi momentaneamente assenti, compresa la sua camera. Infine, nel lato corto di destra c'erano le suntuose stanze di tutti gli studiosi dell'Accademia. Platone con il suo segretario Filippo Diopunte, Aristotele con il suo segretario Teofrasto, poi il Senocrate, Pseosippo ed Eraclide. In quel momento nel portico di fronte al nostro c'erano due uomini che passeggiavano. Uno dei due si scorse, prese a dirigersi verso di noi. Man mano che si avvicinava, ebbe in modo di osservare che era un uomo di corporatura robusta, sui quarant'anni, alto, capelli lisci e neri, che gli cadevano disordinatamente sulle spalle. La faccia allegra era coperta da una barba non molto lunga. I suoi occhi si accesero di gioia, quando Eudosso e l'astenia lo salutarono e mi presentarono. Finalmente ti conosco, assiutti è di flionte. Rallegrati. Benvenuta alla cadena, nonostante la tua versione per questa istituzione. Tu e l'astenia dovete ritenervi comunque fortunate e onorate. Siete le prime donne, quarant'anni a metterci piede. Nonostante il suo tono di voce fosse cavernoso, era piacevole il sonoro. Sono il nipote del grande Platone, Pseosippo di Atene, e tocca a me fare gli onori di casa. Allora, siotea, se potrai restare e partecipare allo studio e alle discussioni, lo deciderà solo Platone. Se ciò accadrà, dovrai versare nelle casse dell'Accademia una piccola civetta per ogni effettiva giornata. Una tetradracma d'argento, moneta che penseranno l'astenia ed Eudosso a pagare, come d'accordi già presi. Ma ti ripeto, la decisione spetta solo a mio zio. Grazie per l'accoglienza, Pseosippo. La mia speranza è che Platone mi permetta di assistere e partecipare alle sue lezioni. Spesso le aversioni nascono dalle incomprensioni. Anche se mi sentivo nervosa ed emozionata, mi sforzavo per non darlo a vedere. Per una modesta civetta d'argento, avrai diritto solo agli studi, non a una stanza. Se poi la stenia qualche volta vorrà ospitarti, non credo che mio zio avrà nulla da obiettare. E sorrise con quel suo modo schietto che stava cominciando a incrinare le mie paure. Eudosso mi accompagna nel grande salone di marmo, anch'esso con un lucernaio da cui piombava un sole oblicuo, irregolare, che filtrava attraverso i rami di un gigantesco ipocastano che nasceva proprio nel centro della sala. Seduto su uno scanno di marmo, a ridosso del tronco dell'albero, c'era un vecchio dalla cui nuca pendevano lunghi e radi capelli bianchi, che si mischiavano alla folta barba. Un raggio di sole produceva un palido riflesso sulla sua testa calva. Attorno all'uomo, seduti in circolo su scanni di marmo, altri studiosi, tutti rivolti verso il vecchio che parlava con una voce soffocata, sommessa. Eudosso mi condusse sino agli scanni vuoti e mi fece accomodare. Il vecchio sollevò il capo reclinato sul petto, lanciando verso di noi un'occhiata fredda. Non interruppe il discorso che stava facendo. Io sono più o meno sicuro che a questo uditorio darò l'impressione di avere svolto adeguatamente il mio compito. Torno a ripetere e ricordiamoci che in totale erano 9.000 anni. 9.000 anni da quando, come si racconta, scoppiò la guerra tra i popoli che abitavano al di là delle colonne di Heracle e tutti quelli che risiedevano al di qua. Una guerra che bisogna descrivere compiutamente. Platone fece vagare lo sguardo tra gli allievi assiepati attorno a lui, sfiorò appena i miei occhi. Le sue mani tremolavano lievemente. Ma facciamo un passo indietro e ricordiamoci che Poseidone, che aveva ricevuto in sorte l'isola di Atlantide, mi stabilì i propri figli, generati da una donna mortale, in un certo luogo dell'isola. Il racconto prese a snodarsi stancamente e non finiva mai. La mia delusione cresceva, man mano che la bocca piccola e pastosa del filosofo vomitava nomi, dettagli, particolari insignificanti. Realizzarono, partendo dal mare, un canale di collegamento largo tre plettri, profondo cento piedi e lungo cinquanta stadi, fino alla cinta di mare più esterna. La cinta maggiore era di tre stadi di larghezza. Delle due cinte successive, quella di mare, era larga due stadi. Non capivo come facesse a ricordare tutti quei particolari senza un foglio scritto, ma soprattutto non riuscivo a comprendere il perché di tutti quei dettagli a proposito di quell'isola, al di là delle colonne di eracle, atlantide, con templi d'amorio e d'oro, argento e oricalco, pieni di state d'oro, con sorgenti d'acqua calda. La voce di Platone era diventata ancora più fioca, quasi impercettibile. Tuttavia, il dio degli dei, Zeus, che governa secondo le leggi, avendo compreso che questa stirpe giusta stava degenerando verso uno stato miserevole, volendo punirli affinché i ricondotti alla ragione divenissero più moderati, convocò tutti gli dei nella loro più angusta dimora, la quale, al centro dell'intero universo, vede tutte le cose che partecipano del divenire, e dopo averli convocati, disse, si passò una mano tremolante sul cranio. Ci scrutò con un'espressione severa. Ve lo dirò la prossima volta. Adesso, invece, vorrei che Eudosso ci presentasse il nuovo allievo. Eudosso mi invitò ad alzarmi e volle che lo accompagnassi da Platone. Mi tremavano le gambe. Quando fumo accanto al vecchio filosofo, il mio amico gli disse chi ero. Platone alzò lo sguardo su di me. E così la mia classifica dei generi umani proprio non ti piace. Capivo che non potevo tacere e, come sempre, liberai il mio cuore. No, signore. Ma non la tua classifica. Nessuna sogno. Solo sogno, assiotea. Non possiamo affidare la vita ai sogni irrealizzabili. La sua voce fiocca sembrò spegnersi del tutto. Mi feci coraggio. Ma anche tu, Platone, ti sei lasciato trasportare da un sogno. La tua città ideale è nient'altro che un sogno. Eppure hai seguito il bisogno di scriverlo, di divulgarlo. Con scarso successo, a quanto vedo. Da quello che mi hanno raccontato Eudosso, Pseusippo e Lastenia, tu eri copista. Hai copiato e letto molte mie opere. Ma non sono riuscito a contagiarti. E si inumidì la piccola bocca riarsa per il lungo parlare. Credo di aver trascritto tutte le tue opere, signore. La prima fu La Repubblica. Mentre la copiavo, sognavo di discuterne con te, Platone. Spero che tu mi dia la possibilità di realizzare quel sogno. Mi sforzavo per non far trapelare l'agitazione che mi tormentava. Il filosofo sbatte le palpebre e parve a miccare nei miei confronti. Tacco e lungo. Poi si è decisa a emettere la sentenza. È meglio essere sinceri, assiotea di flionte. Tu hai avuto l'ardire e l'astoltezza di firmare commenti su quella copia della mia Repubblica. Quindi già conoscevo il tuo pensiero. Poi c'è stata la tua partecipazione all'Assemblea della Pnice. Per me sia un libro aperto. Parlare con te sprecare del tempo prezioso. È come parlare con quello straccione di Diogene. Eppure permetterò al tuo sogno di realizzarsi. Lo faccio per Odosso e per mia nipote Pseusippo, il quale non sa negare nulla all'astenia. E per l'amico Focione, che mi si è particolarmente raccomandato. I suoi occhi vitri mi degnavano di radi sguardi. Adesso siediti e partecipa alla discussione. Ritornai al mio posto, ma adesso fremevo. Odosso invece rimase accanto al filosofo, chiese scusa agli altri e strasse una delle statuine dalla bisaccia che portava ancora a tracolla e la mise sotto il naso del maestro. Il Platone potrebbe essere un ricalco, la sostanza di cui è composta questa figura. Gli occhi del vecchio si sollevarono sul mio amico. E così ne hai trovata un'altra. Che spreco di tempo e di denaro. O ricalco? Chi può dirlo? Le fonti non dicono nulla al riguardo. E scuoteva il capo rassegnato. Infatti non si capisce che cosa sia il materiale di cui sono composte tutte le statuine trovate finora. È una sostanza durissima e non si spiega come abbiano fatto gli artisti a scolpirle. Odosso stava per rimetterle nella bisaccia. Poi ci ripensò e la mostrò all'uomo che sedeva accanto a Platone. Tu che ne pensi Aristotele? L'uomo dei capelli rossi afferrò la statuina gettandole un'occhiata insignificante. Dei e proprio lei. Se anche fosse il dio ricalco non può una mente come la tua sprecare energie dietro queste bamboline. È qualche anno ormai che bevi solo per questa collezione mentre il nostro maestro ti ha affidato il compito di riportare la regolarità nel cielo. Il tono di voce era stato aspro. Restitui la statuina Eudosso. Un raggio di sole si era insinuato nei rami dell'ipocastano. Eudosso non riuscì a mascherare il dispiacere e la sua voce accorata si aggiunse all'espressione di fragilità che piegò il suo volto. Ne ho parlato solo con eraclide. Protese un braccio verso lo studioso calvo seduto alla destra di Aristotele e penso che possa funzionare. La mia ipotesi è di 27 sfere concentriche che ruotano attorno alla terra capaci di scomporre ogni singolo moto circolare uniforme in una pluralità di moti circolari uniformi di alcune delle 27 sfere. Tornò sedera al mio fianco visibilmente mortificato. Aristotele annunciò la pausa per poterci rinfrescare l'idea e mangiare qualcosa. Due giovanissimi allievi corsero verso Platone ma fu Aristotele il più veloce a porgere il braccio al maestro. Ci raggiunse lo studioso calvo che Eudosso aveva indicato col nome di Eraclide, un uomo sulla quarantina, piccolo di statura, espressione severa sul volto. «Era quello che t'aspettavi, Sotea?» La sua voce era lamentevole e fiocca quanto quella di Platone. «A ce n'è ad alzarmi ma lui mi fece cena di restare comoda. No, signore, se posso essere sincera, ho ricevuto un'impressione brutta, peggiore di ogni più nera previsione». «Non far caso alle chiacchiere che sentirai in giro?» «È vero, sono il pupillo di Platone, ma non perché strisciò i suoi piedi, perché sono l'unico forse a cercare di tenergli testa col mio pensiero». E dietro quegli occhi torvi apparve un lampo di complicità. E mentre tu rispondevi a Platone «Le sono rivisto io tanti anni fa?» «Ma dimmi, Sotea, perché mortifichi la tua femminilità?» «La verità è che io, almeno qui nell'Accademia, vorrei passare inosservata, vorrei non parlare, non essere visibile. Vorrei essere un foglio di papiro con dei pensieri, senza voce, senza occhi, per non far trappellare le mie emozioni, la mia rabbia». Ero grata alla mano di Audos sulla mia spalla. Sentivo il calore della sua comprensione. La faccia severa di Eraclide parve di stendersi un poco. Non tutte le lezioni sono noiose come quella odierna. Erano anni che non ci raccontava di Atlantide. Sfortunatamente è coinciso col tuo primo giorno in Accademia. Che impressione ti ha fatto questa storia? Platone non è giusto con Neodosso. Lo accusa di sprecare tempo dietro le statuine. E poi lui, il maestro, getta un'intera mattinata al vento per raccontarci una storia noiosa e assurda. alzai gli occhi. L'astenia e Pseusippo mi sorridevano con complicità e allora continuai. Quello che proprio non capisco sono tutti quei dettagli, lunghezza, altezza, due plettri, cento piedi e soprattutto quelli insistere sui novemila anni. Novemila anni esatti, perché fu allora che accaddero i fatti. Ma perché? Se qualcuno si sbagliasse da tasse quei mitici avvenimenti a otto mila anni fa, questa storia sarebbe meno assurda, forse. Fu Eudosso a cercare i miei occhi. Siamo in due allora, ad aver avuto la stessa impressione. Non so perché Platone abbia messo l'accento sui novemila anni rifiutando le mie ipotesi che l'unità di misura potrebbe benissimo essere l'anno solare. Perché ha insistito sul luogo esatto al di là delle colonne di Eracle? Perché tutti quei dettagli nella descrizione? Per ficarci in testa che questa storia d'Atlantide è vera nei minimi dettagli. Per questo io dico che nelle fonti di questa storia deve esserci qualcosa di strano. E quella che fu la mia impressione anni fa, quando la sentì proprio qui la prima volta. Ebbene, l'ha avuta anche a Siotea oggi. Siamo quindi in tre. E ficcò i suoi occhi sgranati in quelli di Eracle. Fu come se i grandi orecchi dell'amico si fossero drizzati, mentre la sua faccia severa s'apriva lo stupore. Ma sei Matteo, Dosso? Dietro di te c'è Pseosippo, il quale già non sopporta che tutti vadano dicendo che io sia il pupillo di suo zio. Ci mancherebbe solo che Platone sapesse che io critico la sua esposizione di Atlantide. Escuiteva il capo mentre la sua voce era diventata ancora più lamentevole. Io sono matematico e astronomo come Teo, Dosso. Noi due dovremo trovare il coraggio di dire a Platone di non costringerci ad assistere alle lezioni di storia o di filosofia. Così potremmo dedicarci a tempo pieno a come sistemare il cielo. Fu la voce cavernosa di Pseosippo a interrompere quella specie di pianisteo. Il matto sei tu, Eraclide. Ma perché te la prendi tanto? Per tutti figli di Urano. Possibile che tu non abbia un po' di comprensione nei riguardi di un vecchio di 80 anni che ormai ha spremuto tutto dalla sua mente. A mio zio adesso piace recitare. Noi gli serviamo da auditorio per tutti i ciclopi. La metà del tempo che tu ed Eudosso passate qui, la impiegate nei vostri studi di astronomia o no? E allora, perché tanta rabbia per una storiella? Sbuffò quella sua sorridente bocca rossa, poi chiamò gli altri studiosi per presentarmeli. Ne mancano parecchi. Alcuni rientreranno il prossimo inverno, come Rasto e Corisco di Scepsi e Menedemo di Pirra. Ma veniamo a Senocrate, il vero responsabile delle scelte di vita di Eudosso e di Eraclide. Un uomo sulla cinquantina bozzò una specie di smorfia nei miei confronti. Assiotea, questo esimio studioso e filosofo, viene inviato come ambasciatore anche a nome della nostra città, perché è noto come l'incorruttibile, perché non ha vizi né passioni di nessun tipo al di fuori della filosofia. Sii felice, assiotea, e non farti inganare dall'atteggiamento esteriore di alcuni di noi, a cominciare da Pseusippo, che fa di tutto per sembrare un superficiale e che sa apprezzare soli i piaceri carnali e la buona tavola, mentre ha un uomo profondo, la cui unica sfortuna è stata quella di crescere all'ombra di un gigante. Pseusippo eruppe in una risata, che riuscì a spazzare via l'atmosfera grave che Platone aveva lasciato nell'aula. Poi, mentre ci conduceva nella sala dei simposi, mi presentò Teofrasto, il segretario di Aristotele, di bellissimo aspetto. Mentre assaggiavo un po' di frutta e bevevo un bicchiere di latte, la stendiavo le che le raccontassi come era andato il primo incontro con Platone. Mi sento strana, un pesce fuor d'acqua, amica mia. Comincio ad avvertire le sensazioni che sarà tutto inutile. Platone è un muro invalicabile, impenetrabile, un vecchio pieno di sedie, manie d'ognipotenza. Forse aveva ragione di oggi e ne questa mattina. E presi a osservare la sala piena di tavoli, su cui era disposta frutta di tutta l'ellade, sistemata per colori, e bevande fresche e profumate, e poi latte di capra, pecora, vacca, e olive, e dolci d'ogni tipo. Pseusippo ci chiese di rientrare nell'aula. Il maestro voleva concludere la lezione. Con le dita tremolanti, Platone sfiorò la sua ampia fronte, solcata da rughe sottili. Incastonati in palpebre senza ciglia, i suoi fieri occhi chiari fissavano il volto di Aristotele, seduto accanto a lui. Gli occhi scurtatori di quest'ultimo lanciarono un'occhiata obliqua verso di noi, poi fecero un impercettibile cenno al maestro. La voce sommessa del vecchio mi giunse come una sferzata al volto. Invoco il sommo Zeus che tutto compie di aiutarci a dare ospitalità ad Assiotea lungo il corso di questa serie di studi. Avete avuto l'occasione di conoscervi, avrete tutto il tempo di frequentarvi. Ma oggi tocca a lei parlarci, dirci quali sono le sue aspettative, e senza fissarmi, ma con un tono di voce ancora più fioco, viene a sedere accanto a me, Assiotea di Fliunte. Il lucernaio era quasi tutto struito dal gigantesco ipocastano, i cui rami svettavano sopra di noi. La luce che filtrava pioveva intorno al tronco davanti al quale erano seduti i due filosofi. La mano di Eudosso strinse la mia, rassicurante. Così mi feci forza e mi portai accanto a Platone. Aristotele mi indicò la sede di marmo accanto al maestro. Platone manteneva sempre il capo lievemente reclinato sul petto, ma mi guardava, sembrava fissare il pavimento di marmo. Poi mi feci un cenno con la mano. Mi sentivo il cuore galoppare. Molte volte, dissi, ho pensato a questo momento, signore, ma ora è tutto diverso perché questa è la realtà e io non posso correre il rischio di essere fraintesa oppure di essere banale. Quindi preferisco essere sincera fino in fondo, a costo di infrangere le buone maniere che si addicono a una circostanza e a un luogo come questo. Tu sai, Platone, che io di professione faccio la copista, ma quando trascrivevo i libri soprattutto i tuoi, oltre a copiarli con gli occhi li leggevo con la mente. E talvolta ho scritto dei commenti a margine dei tuoi pensieri. Quello che non riuscivo a comprendere era come fosse possibile che un grande filosofo come te, Platone, potesse giustificare la schiavitù nella condizione della donna. E fissai Aristotele, visto che il vecchio continuava a guardare nel vuoto. Molte altre cose, signore, ho in mente di dirti e se in futuro me lo permetterai lo farò. Ma i capisaldi sono questi. Tu dici che si nasce schiavi, che gli schiavi sono inferiori ai cittadini liberi, per natura. Tu affermi, Platone, che la donna è inferiori all'uomo, perché così ha stabilito madre natura. Scurtavo il vecchio, con la speranza che mi guardasse, per tentare di indovinare quello che gli passava per la testa. Se questi stessi pensieri le manifestasse un povero pastore, che vive isolato assieme a un greggio, su una montagna per l'intero anno, potrei anche non spaventarmi, perdonarlo. Ma queste idee sono state scritte e divulgate nel centro del sapere più importante del mondo, dal pensatore più grande che l'umanità abbia mai avuto finora, nella scuola in cui vengono a studiare i migliori uomini dell'Ellade, i più grandi politici dell'Attica e i migliori filosofi e scienziati esistenti sulla Terra. Maestro, niente più importante e grave di questo fatto, perché è in discussione il destino e il futuro non solo di Atene, ma di tutto il genere umano. Tacqui, non sapevo se potevo proseguire o attendere un nuovo commento. Senza degnarmi di uno sguardo, il vecchio sollevò soltanto alcune dita di una mano nella direzione di Aristotele. L'uomo dai lunghi capelli rossi, la faccia minacciosa, mi parlò. Innanzitutto, la posizione del maestro non è netta come vuoi far intendere tu, Assiotea. Se hai letto attentamente La Repubblica, avrai notato che Platone immagina una società in cui uomo e donna sono praticamente uguali nelle mansioni da svolgere. Perdonami, Aristotele. Mentre le interrompevo, il suo sguardo divenne ostile. Ma quel pezzo è come una favola. Somiglia la fantastica storia di Atlantide. Sollevò appena i gomiti, portese levemente le braccia. È bene che tu sappia che il maestro ha chiesto anche un mio parere sulla tua missione all'Accademia. Pur avendo una grande stima per me, non ha voluto ascoltarmi. Io ero contrario. Avevo letto i tuoi commenti su quella copia della Repubblica. Sapevo perfettamente che con le tue stupidaggini sulla condizione femminile ci avresti fatto perdere tempo prezioso. Quindi non si scherza dei e propri lei. Qui stiamo cercando di mettere ordine nel cielo e sulla terra. Qui si studiano matematica, astronomia, filosofia, botanica, minerali, le stagioni, la storia dell'uomo, le guerre, la politica. La nostra non è una società organizzata alla perfezione. Ogni tassello costituisce un pezzetto del grande mosaico del nostro destino. Noi filosofi siamo superiori alle piccole vicende umane di oggi. Il nostro è un progetto millenario. Per questo non possiamo perdere tempo dietro una smorfiosa che scimmiotta l'uomo. Mi veniva da piangere. Assiotea di Fliunte riprese. Tu sei qui solo perché il maestro è diventato troppo buono invecchiando. Il suo unico difetto è che vorrebbe il consenso di tutti, mentre chi si appresta a dirigere tutto il genere umano deve essere spietato quando occorre. Strinse i pugni. Ho la sgradevole sensazioni che tu sia una donna che non si arrende tanto facilmente. Sappi allora che per quanto riguarda la condizione del sesso a cui appartieni, io sono molto più chiaro di Platone. La donna non è inferiore all'uomo per natura, perché il solo dire che è inferiore avvicina troppo questo essere alla nostra nobiltà. Proprio in quel momento tra i rami esplose un sole violento. Aristotele si alzò in piedi, protendendo le mani al cielo. La donna è uno scarto della natura. Questo è il frutto dei miei studi. Uno scarto dei e propri lei. Io e il mio maestro stiamo perdendo tempo dietro uno scarto della natura. Ma voi, voi sopra l'Olimpo, come potete permettere tutto questo? E rimase così. Mani protese verso il fiotto di luce che presa a fuggire in alto. Ormai piangevo senza ritegno, soprattutto perché avevo colto un'occhiata altrettanto sprezzante negli occhi di Platone. E più piangevo, più lui serrava quella sua bocca piccola e pastosa. Mi sentì afferrato dalle mani di audosso che mi trascinavano via, mentre l'astenia mi gridava di non farci caso, che nulla era perduto, che quella era una specie di iniziazione, che non dovevo prendermela in quel modo. Grazie.